Questo gattino di due giorni sta per cadere da oltre tre metri d'altezza. Un anno fa nella serra dove lavoro c'era questa gatta che utilizzava i teli ombreggianti interni della serra come amaca. Quando è rimasta incinta io sapevo, sta a vedere che quella va a partorir lassù. E infatti così è stato. Una mattina ho trovato cinque gattini su uno dei teli. Purtroppo due giorni dopo ho notato che il telo su cui aveva partorito era pieno di buchi e uno dei gattini sbucava con le zampette da lassù. Ho preso una canna di 3-4 metri e l'ho rispinto dolcemente nel telo. Dopo un'ora era di nuovo con le zampette fuori dal buco. L'ho rispinto dentro. Non potevo stare tutto il giorno a rispingere questo gattino dentro al buco. Allora ho deciso di ammocchiare alcune piante di spatifillum a foglie grande in modo da attutire l'eventuale caduta del gattino. E infatti qualche ora dopo mi sono ritrovato questo micino. Era grande 4-5 centimetri, era piccolissimo. Ho legato un vaso a una canna, ho preso il micio con un guanto, l'ho rimesso dentro e ributtato lassopra. Sono rimasti lassù per un mese a cuocersi sotto il sole e poi la mamma ha deciso di portarli nel banco delle Sansevierie. Ogni mattina andavo a controllarli, erano bellissimi. Quel piccolo sopravvissuto al sole cocente e alla caduta ho deciso di chiamarlo Icaro. E oggi, un anno dopo, festeggiamo il suo primo compleanno. Un bello!